Elegante ed autorevole per esaltare la bellezza di un territorio con tanto ancora da rivelare. Si chiama l'eccellente della nuova rivista con cadenza bimestrale che racconterà con testi e foto quei racconti, quelle storie d'eccellenza che spesso non trovano il giusto spazio per emergere. Edita da Must Lab, la nuova rivista è composta da 44 pagine con plastificazione soft touch di copertina dedicata per il primo numero al sindaco di Lecce Paolo Perrone, il più votato dagli italiani. Una vera e propria sfida per raccontare il bello e il buono del Salento e guardare la crisi con gli occhi dell'opportunità piuttosto che con quelli del timore.